L'ipotesi di lavoro per questo nuovo cd, suggerita da Beppe Crovella, che è il produttore del disco, è stata quella di registrare un live in studio. Mi sono ispirato come sound a quello delle band jazz rock anni 70, come il Return to Forever, che è simile alla nostra come formazione, ma soprattutto alla scuola jazz rock tolinese, la cosiddetta Turing Jazz Rock School, della quale faccio parte. La Turing Jazz Rock School, come è stata definita dai critici questa ripetuta e varia collaborazione che c'è stata negli anni fa in Wicis dell'area jazz e a rock di Torino, ha preso avvio negli anni 70, in particolare con la band degli arti e mestieri. Peppe Crovella è membro originario degli arti e mestieri, nonché produttore di diversi lavori della band con la sua etichetta elettromantic music, della quale il catalogo Turing Jazz Rock School fa parte. Ho composto i brani che compaiono nel CD e li abbiamo registrati in una giornata, registrando una sola versione per la vibrazione. Oltre alle eccezionali musicisti che sono con me in questo progetto da ormai dieci anni, il CD ha visto la partecipazione di un ospite di riguardo, il chitarrista inglese John Etheridge. Grazie a tutti. Grazie a tutti.